Musica In studio Giada Giacquinta Buonasera e bentrovati a una nuova edizione di MTG in apertura Parliamo del raddoppio della Ragusa Catania perché dopo il rinvio del Cipe a gennaio l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone interviene rinnovando l'impegno della regione nei confronti del governo nazionale inoltre Falcone propone anche una soluzione che coinvolga ANAS e CAS La battuta d'arresto per l'ITER per la realizzazione della Ragusa Catania rappresentata dal rinvio a gennaio del Cipe ha suscitato qualche perplessità nel governo regionale Marco Falcone, assessore regionale alle infrastrutture ha dichiarato quando il precedente governo nazionale disse che bisognava procedere all'acquisto del progetto e mettere fuori il privato noi abbiamo avuto qualche perplessità ma ci siamo adeguati pur con qualche dubbio e il presidente Conte disse che avrebbe finanziato l'opera con i fondi statali successivamente quando si è andati al governo Conte-Bis il nuovo governo ci ha chiesto che fosse la regione ad anticipare delle risorse finanziarie e dopo qualche perplessità e dopo aver fatto una riprogrammazione ha detto Falcone, delle somme che avevamo a disposizione e a carico dell'ANAS la regione ha messo altri 387 milioni di euro e ne ha aggiunta i 217 eravamo quasi pronti, avevamo detto che al Cipe avremmo proceduto al finanziamento dell'opera con una riprogrammazione dei conti invece c'è arrivata questa battuta d'arresto perché pare che l'ANAC avesse mosso delle perplessità tutto è stato rinviato al mese di gennaio dice Falcone noi siamo qui e confidiamo che si possa trovare una soluzione alla luce del fatto che ci hanno chiesto i fondi e abbiamo prontamente dato disponibilità avevamo anche proposto di fare intervenire il CAS come soggetto che potesse garantire la solveibilità e la sostenibilità finanziaria ma tante nostre proposte abbiamo ricevuto risposte negative tuttavia la strada la vogliamo fare il territorio la richiede e confidiamo in una fattiva collaborazione per trovare una soluzione se non è possibile acquistare il progetto facciamo un'altra cosa cioè consentiamo che il CAS e magari l'ANAS subentrino al dottore Bonsignore nella società Sarch cioè acquisiscano le quote per cui il progetto che già è in capo della Sarch potrà essere portato avanti cioè potrà essere trasformato in progetto esecutivo con l'ottemperanza delle prescrizioni con la gara d'appalto e con quindi l'avvio delle opere tutto sotto la supervisione del presidente Musumeci che dovrà essere necessariamente per sbloccare questa opera nominato commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione della Catania Ragusa Ancora disagi per chi viaggia sulla Palermo-Catania è entrato in vigore qualche giorno fa il divieto di circolazione per i veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate sul viadotto Canatello in direzione Catania con conseguente obbligo di uscita sulla viabilità ordinaria per i veicoli industriali e gli autobus Ancora disagi per chi viaggia sulla Palermo-Catania una carreggiata infatti è il viadotto Canatello sull'autostrada A19 a rischio crollo e da qualche giorno non è più percorribile dei mezzi pesanti di più di 3,5 tonnellate nello specifico per i prossimi 5 mesi o comunque fino a quando i lavori di consolidamento non finiranno la carreggiata a direzione Catania sarà inibita ai mezzi pesanti dallo svincolo di Resuttano fino a Ponte 5 Archie a stabilirlo un'ordinanza dell'ANAS che ha imposto l'uscita obbligatoria di tutti i veicoli sopra le 3,5 tonnellate allo svincolo a Resuttano dove i mezzi vengono filtrati dalla persona dell'ANAS e dalla polizia stradale Il problema sembrava essere risolto perché otto mesi fa circa l'ANAS aveva preso impegno in assessorato che quella bradella che andava fatta da Resuttano con uscita a Ponte 5 Archie veniva risolta cioè venivano spese all'incirca 2 milioni di euro per metterle in sicurezza di tutto questo non è stato fatto niente perché la strada per com'è è tutta franata ed è impercorribile è impercorribile Quindi né strada né mare non si può viaggiare, fare partire e fare arrivare le merci in Sicilia? Mi sembra impossibile se arriva una neva a Palermo e deve essere trasferita la merce su Catania bisogna andare a fare il giro di Messina cioè con coste elevatissime ci troviamo proprio come quelli che ogni volta si discute e poi in emergenza bisogna attuare cioè riparare le strade o le autostrade ma non si può fare tutto Ha parlato di una crisi finanziaria che da incipiente sta per diventare conclamata il consigliere Gallio nel corso di una conferenza stampa che si è svolta sabato scorso nella sede del circolo 25 aprile di articolo 1 a Comiso nel corso dell'incontro inoltre si è dato ampio spazio alla situazione dell'aeroporto Pio La Torre Sei mesi in media di ritardo nella presentazione dei bilanci al Consiglio Comunale disavanzo dell'ultimo consuntivo di quasi 3 milioni di euro spalmati su tutta la legislatura oltre 8 milioni di euro e il debito non saldato verso i fornitori dell'ente al 31 dicembre del 2018 questi alcuni dei punti snocciolati nel corso della conferenza stampa che si è svolta sabato scorso nella sede del circolo 25 aprile di articolo 1 a Comiso nel corso della conferenza il consigliere comunale Gaetano Gallio ha parlato di una crisi finanziaria che da incipiente sta per diventare conclamata definendoli i medesimi sintomi del periodo predissesto finanziario ai tempi del sindaco Alfano Capito la parte l'argomento legato alla situazione dello scalo casmeneo Gallio ha ufficializzato la soluzione suggerita da articolo 1 per la sottoscrizione da parte del comune di Comiso dell'aumento di capitale di Suaco senza ausilio della regione siciliana che nel frattempo continua a Gallio continua a tagliare gli aiuti allo scalo per esigenze di bilancio una soluzione che non prevede ulteriore creazione di debito da parte dell'ente grazie alla possibilità di devolvere mutui già esistenti utilizzando denaro già nelle casse del comune ma inutilizzato Gallio ha fatto riferimento ai circa 5 milioni di euro accantonati a copertura della possibile sconfitta in giudizio in merito alla sentenza 1882 del 2019 della Corte d'Appello di Catania che ha l'allora incaricato dall'amministrazione Spataro riparato alla mancata costituzione in giudizio da parte del sindaco Alfano annullando quasi totalmente in appello alla sentenza che lo condannava a pagare 10 milioni di euro all'aeronautica militare le risorse garantite dal mutuo già erogato dalla Cassa di Depositi e Prestiti a copertura della causa pendente in periodo di dissesto sono oggi inutilizzate nel conto numero 400 del comune di Comiso e continuano a produrre interessi passivi senza utilità per l'ente che non ha restituito la cifra anche a seguito della vittoria in giudizio questo è già accaduto per altri mutui continua Gallio come il caso del definanziamento operato dall'assessore Cassiba sul rilancio del centro storico per la creazione di parcheggi in città è tecnicamente possibile operare una devoluzione delle somme per investimenti alternativi in questo caso una quota dei quasi 5 milioni disponibili potrebbe essere suggerisce il consigliere dopo l'autorizzazione di rito utilizzata per sottoscrivere circa 2 milioni e 700 mila euro dell'aumento di capitale sociale di Soaco mentre il rimanente a montare potrebbe essere destinato alla realizzazione del progetto di creazione di gates ad imbarco al piano superiore del Pio La Torre con percorsi obbligati attraverso gli esercizi commerciali in aerostazione così da rendere finalmente redditizia anche l'area all'insight dello scalo inoltre nel corso della conferenza stampa si è ribadito come da un approfondimento giurisprudenziale la situazione societaria di Soaco che attualmente oltre al socio pubblico registra un unico socio privato non sarebbe legittima alla luce del nuovo testo unico sulle partecipate necessiti di un intervento che legalizzi la situazione attuale tramite l'ingresso di almeno un altro socio privato infine articolo 1 si dichiara disponibile a collaborare con l'amministrazione per la realizzazione di questi punti e adesso andiamo a Vittoria il vicolo Elena Formica a pochi passi dalla Basilica di San Giovanni è stato intitolato all'infanzia negata si tratta della prima iniziativa dell'associazione Vittoria in Cammino nata dopo i tragici rifatti dello scorso 11 luglio giorno in cui furono travolti falciati da un SUV ad alta velocità Alessio e Simone D'Antonio è nata per dare voce ai diritti negati dei bambini si chiama Vittoria in Cammino ed è l'associazione neonata Vittoria dopo la tragedia dell'11 luglio scorso quando morirono Alessio e Simone D'Antonio uccisi in via 4 Aprile da un SUV in folle corsa da quel giorno la città cerca in tutti i modi di riscattare e migliorare la sua immagine numerosi cittadini che fanno parte dell'associazione e che ieri sera hanno voluto iniziare la loro attività inaugurando il vicolo Elena Formica a pochi passi dalla Basilica di San Giovanni uno splendido scorcio della città a cui è stata posta una targa dedicata all'infanzia negata abbiamo voluto partire da qui proprio da questo angolo da questo scorcio di vittoria che è veramente un gioiello proprio per far capire ad ogni vittoriese che ogni angolo della città è nostro e di questo noi dobbiamo farci appunto responsabili infatti vorremmo lanciare l'idea che ognuno può anche adottare una fioriera e l'idea è ancora quella di far diventare Vittoria un giardino un giardino con l'aiuto di tutti lo può diventare perché in riferimento ai bambini noi vogliamo una città a misura di bambino quindi che ogni angolo di vittoria possa essere l'angolo di tutti dell'associazione fanno parte anche i genitori di Simone e D'Antonio uno dei due cuginetti morto lo scorso luglio genitori che hanno trovato la forza di andare avanti dopo una tragedia che ha comunque segnato il loro futuro ma anche quello di un'intera comunità questa associazione Vittoria in Cammino è nata dopo la tragedia che è successa a Simone e ad Alessio e quindi tutti insieme siamo pronti per dare una svolta a questa città non ci fermeremo e andiamo sempre avanti e di questa associazione ne faccio parte anche io e sono fiera e speriamo di dare questa svolta e far credere che Vittoria non è solo fatta di persone mafiosi ma di buona gente e anche in un momento di festa come il Natale Peppe Lucifore il cuoco modicano la cui morte ha sconvolto la comunità viene ricordato con un albero a lui dedicato intanto ci si chiede quanto passerà ancora prima che venga assicurato alla giustizia l'assassino nei primi 20 giorni di gennaio si potrebbe avere una svolta nelle indagini sull'omicidio di Peppe Lucifora un silenzio di indagini che dietro vede qualcosa di molto importante e gli investigatori da cui non trapela nulla fanno percepire che le indagini proseguono a marcia spedita gli esiti scientifici serviranno a identificare chi è entrato in contatto nelle ultime ore con il cuoco modicano dalla città dai bar dalle strade sono tanti i dubbi alimentati da un sentimento di angoscia nei confronti di indagini così silenziose da destare quasi allarme come se si temesse che non si arriverà mai alla verità ma la verità e questo lo dicono gli inquirenti c'è ed arriverà a tempo opportuno perché una mossa sbagliata da parte degli investigatori in questo momento rischia di far crollare il delicatissimo caso che è stato improntato sulla base dei primi riscontri una città intera comunque chiede giustizia e nella stessa città il ricordo non cessa il rifugio sanitario di Giulia che si occupa degli amici a quattro zampe che è stato destinatario di fondi raccolti dalle donazioni dei funerali di Lucifora ha acceso l'albero di Peppe sì perché è stato comprato un albero un abete che rappresenterà la continuazione della vita di Peppe in terra un messaggio di amore e per l'occasione del Natale è stato addobbato con delle lucine accanto all'albero una poesia di Carmelo Di Stefano che così recita il campanaccio annuncia festa e festa sarà malgrado mano folle tinse d'ombre il fresco sorriso del mattino sarà festa nel cuore della gente la gente che ti ama festa nei fuochi d'artificio nell'odore dei cedri nel pigro dondolio dell'asinello nella voce antica che arranca la folla sarà festa ancora festa nel cuore della tua gente e ha tracciato un bilancio dell'attività svolta quest'anno l'amministrazione Cassi si è parlato anche degli obiettivi da raggiungere il primo cittadino ha annunciato l'implementazione della squadra assessoriale piano di asfaltatura delle strade decoro del verde pubblico spazi resi fruibili alla comunità ragusana alta percentuale di differenziata sono solo alcune delle attività svolte dall'amministrazione comunale di ragusa che questa mattina ha tracciato un bilancio di quanto compiuto nell'anno che sta per concludersi un gruppo consigliare coeso e compatto con queste parole il sindaco di ragusa ha puntato l'attenzione sulla maggioranza mettendo a tacere le recenti polemiche nel tradizionale incontro con la stampa per gli auguri di fine anno soddisfatto del lavoro svolto dalla squadra assessoriale il primo cittadino annunciato l'implementazione del numero degli assessori con una ripartizione delle deleghe più razionale riservo ancora sui nomi la città di ragusa in questo anno ha detto cassì ha iniziato a dischiudersi ha riaperto dei luoghi da decenni chiusi la città di ragusa la città di ragusa è una città che si apre una città mi piace utilizzare questo termine abbiamo recentemente utilizzato per i negozi del centro dischiuse è una città che si dischiude ci sono tanti spazi dentro la città di ragusa che sono stati riportati alla fruizione della gente questo è un fatto veramente nuovo secondo me quasi rivoluzionario non accadeva erano decenni che degli spazi erano chiusi alla pubblico stiamo procedendo a mantenere e a recuperare spazi dentro la vallata spazi nelle latomie spazi anche di edifici che sono da decenni chiusi questo è un obiettivo veramente impegnativo di questa amministrazione il nostro piano straordinario di riasfaltare le strade ha già preso il via e non si fermerà per i prossimi anni c'è un progetto che riguarda il verde anche qui stiamo parlando di decoro noi ci teniamo a che la nostra città sia una città pulita e decorosa e chi venga da fuori trovi una città pulita e decorosa per cui un piano straordinario di interventi sul verde abbiamo iniziato si vedono già i primi risultati se ne vedranno altri in futuro c'è un piano che è sempre attivente al decoro che riguarda il servizio di igiene urbana che è una nota che è molto sotto attenzione cioè è tenuta sotto grande considerazione perché è chiaro che da lì passa anche un discorso di pulizia di decoro siamo intervenuti la situazione è migliorata il primo cittadino ha illustrato anche gli obiettivi da attuare per il prossimo anno il 2020 sarà un anno decisivo per tante cose perché ci sono delle infrastrutture che prenderanno il via un'attività molto intensa proprio di lavori pubblici parliamo non so di piazza del popolo riqualificata parliamo della rotatoria che è davanti al nuovo ospedale parliamo dell'impianto di maniera di ragusa via delle sirene parliamo di manutenzione straordinaria nelle scuole parliamo di manutenzione che si sarà ancora incrementata sulle strade parliamo di manutenzione del verde nei nostri giardini le nostre ville tanta carne a fuoco e a Modica continuano gli appuntamenti della United Network al liceo scientifico due i progetti ambiziosi proposti agli studenti continuano i corsi di formazione per i progetti High Moon e Mooner promossi dalla United Network negli istituti di istruzione superiore al liceo scientifico di Modica facente parte dell'istituto di istruzione superiore Galilei Campailla i ragazzi stanno continuando a studiare e ad applicarsi in un'intensa attività di studio alcuni di loro raggiungeranno la città di Catania mentre altri andranno direttamente a New York un progetto che non coinvolge solo l'istituto di istruzione superiore Galilei Campailla di Modica ma che vede la presenza anche di altri studenti facenti parte di altre realtà territoriali perché hai scelto di partecipare a questo progetto che opportunità hai riscontrato perché è un progetto comunque che non si può di cui non si può soffrire tutti i giorni e ci dà delle possibilità di confrontarci con persone da tutto il mondo e di fare un'esperienza che comunque ci resterà per tutta la vita quando hai scelto di partecipare? circa un mese fa un'iniziativa interessante di grande crescita culturale hanno commentato i ragazzi tra questi una ragazza ci ha confidato di aver scelto di festeggiare il proprio compleanno proprio in questo modo andando a discutere alle Nazioni Unite a New York entrerò a contatto con persone di tutto il mondo che hanno le mie stesse passioni che condividono abbiamo la possibilità di parlare entrambi comunicare attraverso la lingua inglese in una tematica nota ormai a tutti dato che l'abbiamo studiata prima di partecipare al progetto terzo anno a Diamond Catania ho scelto questo progetto perché credo che le Nazioni Unite possano di nuovo di nuovo riacquisire la loro importanza a livello internazionale soprattutto quindi nella diplomazia e la cooperazione internazionale un progetto che vede alle spalle una grande preparazione e un costante e continuo confronto e documentazione da parte dei ragazzi anche su ciò che accade nel mondo un progetto di spessore ha commentato la docente di riferimento è veramente un appunto di diamante perché i ragazzi sono molto coinvolti e molto partecipi e si preparano bene sia a Catania che a New York ed è un momento un'opportunità unica per capire cosa c'è al di là diciamo del nostro paese perché si confrontano con ragazzi a Catania con ragazzi che provengono da tutta la Sicilia orientale a New York con ragazzi che vengono da tutto il mondo questa domenica a Noto si terrà il progetto Neturbino per un giorno un appuntamento importante che coinvolgerà i cittadini per la tutela dell'ambiente si chiama Neturbini per un giorno l'iniziativa ideata da Marco Ambrogio e Alessandro Rizza che diventano promotori di un momento di salvaguardia dell'ambiente e dell'intera città Neturbini per un giorno sarà un'iniziativa che prenderà vita il 29 di dicembre a Noto l'appuntamento è alle 9 alla villa comunale dove privati cittadini potranno per un giorno diventare operatori ecologici l'obiettivo è la salvaguardia dell'ambiente ma anche la bonifica effettiva e reale di alcuni punti della città di Noto presi di mira da atti vandalici e soprattutto dall'inciviltà della gente metri e metri di rifiuti che verranno spazzati via da privati cittadini con altissimo senso civico un appuntamento che come detto si terrà il 29 di dicembre alle ore 9 alla villa comunale di Noto oltre i due ragazzi a sostenere fortemente questo progetto Plastic Free Onlus lega ambiente Noto e anche lo stesso comune Netino che ha espresso parole di soddisfazione per questo alto senso civico mostrato dai propri concittadini ma anche il comune di Noto ad esprimere soddisfazione per l'iniziativa anche il sindaco della città Corrado Bonfanti che ha parlato di iniziativa lodevole dall'alto senso civico adesso una pausa pubblicitaria tra poco ieri pomeriggio la prima del presepe vivente di Ispica oltre un migliaio di persone hanno preso parte ieri pomeriggio l'inaugurazione del presepe vivente di Ispica giunto alla sua ventiduesima edizione organizzato da Promeventi col patrocinio del comune e la collaborazione di Proloco e Scout numerosi pullman provenienti da tutta la Sicilia come ogni anno sono giunti nel primo pomeriggio per assistere all'inaugurazione e la Sicilia antica quella protagonista quest'anno ai tradizionali antichi mestieri ambientati nelle grotte rupestri il direttore artistico Peppe Galfo ha innestato canti e kunti in omaggio alla tradizione e alla identità valorizzando al meglio la vita vissuta della spacca forno di allora l'abbiamo voluto proprio incentrare sulla Sicilia antica perché secondo me è qualcosa che è proprio intrinseca a noi ci appartiene e questo posto ci appartiene più di altri perché ereditiamo veramente questa cosa dei nostri avi che ci insegnarono ai tempi e ci insegnano tuttora basta solo fare un passo indietro che nonostante i momenti di difficoltà nonostante gli stenti di quei periodi riuscivano comunque ad andare avanti con molta dignità lo spettatore viene accolto da suoni recitazioni canti e kunti rigoroso dialetto antico mentre immagini atmosfera rendono ancora più emozionante questa esperienza il progetto culmina nella natività allestita all'ex mattatoio dove la vera novità di questa edizione anche Maria canterà affiancata dai figuranti attori che coglieranno ed emozioneranno il visitatore quest'anno il presepio vivente di Isfica ha superato se stesso noi ci siamo superati ci siamo superati perché diciamo che oltre la location che è il fonte del presepio vivente però noi con i nostri sforzi e sacrifici siamo pronti ad accogliere migliaia di persone che vengono a visitare il nostro presepe lungo il tragitto che si snoda per un chilometro circa 100 i figuranti che hanno dato vita al villaggio siciliano dove 40 artigiani svelano al visitatore segreti delle antiche arti abbiamo già le strade del centro urbano piene di pullman questo significa turismo significa promozione del territorio significa lavoro per le nostre attività commerciali significa benessere quindi noi abbiamo il dovere di puntare su una destagionalizzazione del turismo e certamente questo rappresenta uno strumento importante il presepio è un'occasione importante quest'anno addirittura il tema sarà rivolto alla Sicilia antica quindi è in chiave ottocentesca con dei canti meravigliosi delle nostre voci sempre ispicesi e questo diciamo che appunto è per noi motivo di orgoglio perché in questo modo si ha un richiamo molto molto importante che non può che renderci fieri di questo i bimbi che fino a 6 anni hanno ingresso gratuito resteranno come sempre incantati dal villaggio ricco di animali veri il presepe replicherà adesso il 25, 26 e 29 dicembre e 1, 5 e 6 gennaio sempre dalle 16 con ingresso da piazza Sant'Antonio e a Ragusa nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù è stato realizzato un presepe molto suggestivo che riprende anche la tradizione non solo del presepe secondo il messaggio di Papa Francesco ma che porta anche le peculiarità del territorio ibleo come muri a secco e altro nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa è stato realizzato un presepe suggestivo ideato e realizzato rispettando non solo i canoni della tradizione secondo il messaggio di Papa Francesco ma anche rivocando le peculiarità distintive del territorio ibleo un'opera di certosina a fattura realizzata con il contributo dei parrucchiani con la collaborazione di Vito Sammatrice e Anna Castello dell'associazione L'Arco e che è possibile ammirare dietro l'altare della chiesa soddisfazione è stata espressa dal parroco Don Marco Diarea che sottolinea come siano stati utilizzati una serie di speciali artifici creativi per far sì che la rappresentazione del presepe appaia ancora più estesa quest'anno stiamo cercando di adoperarci per garantire un peso specifico alle parole di Papa Francesco ha detto che ha voluto mettere in rilievo il valore simbolico del presepe abbiamo creato una buona squadra prosegue Don Diara che guidata dai maestri presepisti ha saputo modulare la creazione di questo manufatto nella maniera più adeguata possibile siamo certi che non mancherà il dovuto interesse da parte dei fedeli e di quanti verranno a visitare la nostra chiesa ha detto il parroco della chiesa del Sacro Cuore di Gesù che ricorda anche l'allestimento del presepe vivente la cui prima è in programma il 26 dicembre nella seda della Villa Schirina Arezzo quartiere conosciuto come Palazzi Edu anche quest'anno a Catania si svolgerà il tradizionale appuntamento con il pranzo di Natale voluto dalla comunità di Sant'Egidio torna anche quest'anno il consueto appuntamento con il pranzo di Natale che si terrà presso la chiesa di San Nicola proprio il 25 dicembre anche quest'anno saranno tante le persone a sedere intorno al tavolo anziani che vivono in istituto bambini della scuola della pace stranieri giovani persone che non hanno una casa come tutti i pranzi c'è sempre l'aggiustamento dell'ultimo minuto quello che è pronto è il clima il clima di grande amicizia che ci ha visto presentare gli inviti a più di 700 poveri della città con i quali viviamo tutto l'anno con un aumento degli italiani e una diminuzione degli stranieri probabilmente anche legata alla chiusura del cara di Mineo ma soprattutto con un mondo di anziani sempre più soli anche legato all'importante esodo di giovani siciliani che incontriamo sempre di più perché vediamo una povertà che spesso coincide con la solitudine tante le collaborazioni per permettere la riuscita del pranzo come quella con Confindustria e con la CGL dove effettivamente l'impresa deve dare il massimo in un momento dove non arriva il pubblico deve arrivare il privato noi siamo stati sempre vicini a Sant'Egidio ma non solo siamo molto convinti che questo genere di iniziative vanno nella direzione giusta e Confindustria sarà sempre accanto a questo genere di iniziative dare una giornata di respiro e di felicità ai soggetti più deboli di questo comune è un fatto importante sapendo però che questa deve essere l'occasione per un ragionamento e una riflessione sulla povertà a Catania sul disagio sociale a Catania che solo attraverso il lavoro e la qualità del lavoro si può superare questa condizione che purtroppo è trasversalmente presente in larga fetta della società catanese è una fetta che si sta sempre di più allargando è tutto per questa edizione grazie per averci seguito buona serata grazie a tutti grazie a tutti